Si chiama X-LIF ed è un metodo chirurgico mininvasivo dal nome impronunciabile per la cura del mal di schiena cronico. È una nuova tecnica che consente la sostituzione del disco intervertebrale con un approccio cosiddetto laterale estremo, Extreme Later Interbody Fusion, appunto X-LIF. Nei giorni scorsi è stata usata per la prima volta dall'equipo di neurochirurgia dell'azienda ospedaliera di Sassari che ha operato un paziente di 65 anni che dopo tre giorni di degenza ha fatto rientro a casa senza mal di schiena. Con una piccola incisione sul fianco il neurochirurgo accede alla colonna vertebrale con minimo trauma dei tessuti. Il neurochirurgo poi con la stessa tecnica usata in laparoscopia inserisce tra le vertebre una protesi fiscale in titanio. Una tecnica all'avanguardia che però può essere applicata solo su pazienti che rispondono a determinati criteri fisici e per questo non può almeno per il momento sostituire l'intervento tradizionale, sicuramente più invasivo ma non meno efficace. Nella sala operatoria al terzo piano del Santissima Annunziata l'intervento è stato realizzato dall'equipo di neurochirurgia per la quale erano presenti la responsabile Maria Antonia Chessa, Giosuè Di Pellegrini, Filippo Veneziani Santonio, Giovanni Nodari in collaborazione con Nicola Marengo dell'ospedale Molinette di Torino. Quindi gli strumentisti di sala, il personale dell'anestesia del Santissima Annunziata e i tecnici di radiologia.